Parliamo del bilancio di previsione per il Consiglio regionale, anche quest'anno un milione di risparmi? Sì, abbiamo confermato il trend positivo nella riduzione dei costi della politica che vedono il Consiglio regionale della Lombardia come lente e l'istituzione meno costosa a livello europeo. È un passaggio assolutamente importante che noi vorremmo portare a modello anche per il resto delle istituzioni. Mi riferisco ai Ministeri a Roma che non tagliano, mi riferisco al Parlamento italiano che non taglia, mi riferisco al Quirinale che non taglia e mi riferisco anche alle altre regioni facendo il conto che ad esempio il Consiglio regionale del Molise costa dieci volte tanto quello che costa il Consiglio regionale della Lombardia. Addirittura il Presidente del Governatore del Molise prende 3.000 euro di indennità in più rispetto al Presidente Maroni. Peccato che Maroni, il Presidente della regione Lombardia, governa su 10 milioni di abitanti, quindi uno Stato di fatto, la Lombardia è più grande della Grecia, del Belgio e di altri Stati nazionali, mentre il Molise è grande come due circoscrizioni del Comune di Milano. Ecco, questa è una cosa folle, noi lo diciamo, lo gridiamo da tanto tempo, però nel frattempo facciamo quello che è giusto fare per i nostri cittadini, quindi riduzione dei costi della politica e continuiamo in questo senso. Chi deve intervenire per tagliare i costi della politica, per tagliare per esempio lo stipendio del Governatore del Molise? Tendenzialmente il Governo nazionale che dovrebbe non fare i tagli lineari, cioè tagliare i trasferimenti che taglia noi come li taglia il Molise, ma entrare ad adeguare, in base alla legge nazionale, delle storture che non sono più accettabili per i cittadini lombardi. C'è un nodo però, una voce che è quella legata al referendum sulle autonomie, una voce molto discussa? Questo riguarda più il bilancio in generale della Regione, è molto discussa. Noi ogni anno come Regione Lombardia regaliamo allo Stato centrale 54 miliardi di euro. Noi chiediamo con un referendum, è la prima volta che si chiede direttamente l'opinione del popolo lombardo, cosa vuole fare da grande. Se vuole andare avanti così, regalare 54 miliardi allo Stato centrale, per poi non riuscire come Regione Lombardia a dare i servizi essenziali ai nostri cittadini che sono in questo momento in grave difficoltà. Io ricordo che la Caritas, non Regione Lombardia, certificato non più di due mesi fa, che i poveri in Regione Lombardia sono 588 mila, i poveri sotto proprio la soglia della possibilità di poter vivere non alla terza settimana ma al primo giorno del mese. Allora davanti a questa situazione noi diamo la parola ai lombardi per dire volete essere più liberi, volete essere più autonomi, volete tenere qui più risorse affinché Regione Lombardia possa dare più servizi ai lombardi stessi? Se sì, bene, ci sarà un referendum, se no, come qualcuno, ad esempio penso al Partito Democratico vuole dare questa indicazione e tanti auguri, poi non si lamentino se le cose non funzionano. Corrado Passere ha detto che bisognerebbe trasformare la città metropolitana in città-stato. Le piace l'idea? Ma non lo so, magari Stato Lombardo mi piace ancora di più, poi la città metropolitana all'interno dello Stato Lombardo potrebbe essere anche un'idea. Io non so se è stato o non stato, sta di fatto che anche la città metropolitana di Milano paga dei tagli che sono assolutamente assurdi rispetto ai servizi che poi deve dare sul territorio. Io ricordo che, ed è l'ultimo dato che fornisco, che nella legge di stabilità in approvazione a Roma sono stati aumentati dell'80% i tagli per gli enti locali, per le regioni e per i comuni. L'80% in più di tagli, mentre i tagli per i ministeri sono diminuiti del 40%. Se questo è un buongiorno, io preferisco dormire, andrà avanti a dormire. Visto che non vogliamo dormire ma ribellarci, noi chiediamo ai Lombardi di dire cosa ne pensano. Quindi avanti con il referendum, nonostante le stupidaggini che qualcuno va in giro a dire, ad esempio sui costi del referendum stesso. Il referendum non costerà più di 10 milioni di euro, ma se dovesse andare in porto, se dovessimo applicare quello che noi chiediamo nel referendum, quindi più autonomia e più risorse, noi magari di questi 54 miliardi di euro che ogni anno lo Stato centrale di fatto ruba ai Lombardi, noi potremmo di fatto tenercene di più e quindi non sono 10 milioni di euro a fronte di 54 miliardi di euro che potremmo risparmiare a spaventarci, anzi.